Sì, siamo pronti dal nuovo negozio di Vega Occhiali in quella di Piazza Ranzoni a Verbagna, una puntata tra podismo e box con i risultati della Gran Buccia con il gruppo sportivo Trasquera. Paolo Vairolli, è stata una bella edizione. Sì, è stata una bella edizione, il tempo ci ha aiutati, il parterra ricco di atleti forti che si sono cimentati su due percorsi bellissimi, uno più bello dell'altro. La gara è stata molto combattuta, specialmente sulla gara lunga in campo maschile. I sentieri sono belli e abbiamo valorizzato dei percorsi nuovi che altrimenti potevano nel tempo andare persi. Ci hanno aiutati nell'organizzazione della manifestazione, il soccorso alpino, guardia di finanza, soccorso alpino e varie associazioni della valle. E poi abbiamo detto anche il pugilato con il Memorial del Grosso, la ciliegina sugli atorta, presidente Beniamino Ricca, la messa, assolutamente Ivan Zucco. Sicuramente Memorial del Grosso, seconda edizione, questo che abbiamo organizzato come ASD Box Verbania al Maggiore, il 16 di giugno. Abbiamo avuto nove incontri, sette incontri di dilettanti agonisti della nostra palestra che hanno combattuto con altrettanti loro coetanei e allo stesso livello agonistico di altre palestre d'Italia. Ne abbiamo vinti 6 su 7. Ivan chiaramente ha avuto un grandissimo successo alla prima ripresa contro il croato Michael Domenkus. e c'è stata poi la vittoria di Gonzales contro Antonio Orvatik. Sono stati nove match che hanno attirato al Maggiore circa 400 persone. C'è stata la vostra collaborazione in diretta per tutta la serata e vi ringraziamo. Abbiamo avuto anche Sonia Di Biase che ha collaborato alla Telecronaca. Sonia Di Biase, ex campionessa del mondo di pugilato femminile, che con il suo blog ci ha reso visibili a più di 25.000 persone. Quindi ringraziamo tutti, siamo contenti, vi aspettiamo al prossimo anno. E avremo anche in questa puntata l'atleta Matteo Fodrini e poi anche il consigliere della SD Box Verbagna, Maurizio Merlo. Vi aspettiamo allora.